Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube, oggi video che mi avete richiesto in tanti, un'altra guida ad un altro modulo, abbiamo visto infatti fino ad ora il 4.4.2 e il 4.2.3.1, due dei moduli diciamo più meta come vi piace a voi definirli, oggi andremo a vedere un altro modulo meta, sempre passatemi il termine, che è il 4.2.2.2, ovvero una variante del 4.4.2, ossia una via di mezzo tra quello che è un 4.4.2 con i mediani ed un 4.2.3.1, andiamo a vedere nello specifico come vado a settarlo e quali sono i suggerimenti che vi vado a dare per sfruttare al meglio questo modulo, quindi come al solito lo sapete, cambio di scena subito molto 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 pulito, ed eccoci qua sulla schermata della rosa, andiamo sulle tattiche personalizzati, ed eccoci qua con il 4.2.2.2. Potete vedere che per quanto riguarda lo stile di difesa io cerco sempre di adottare un equilibrato, in maniera tale che sono io a giostrare la squadra sia per quanto riguarda la fase di pressing che per quanto riguarda la fase magari un po' più di ritirata, e ampiezza 5 mi permette di avere la squadra non troppo larga e quindi di non subire bucate centrali, e profondità 4 mi permette di avere la squadra né troppo bassa né troppo alta, in maniera tale da poter anche comunque riuscire a giostrarmi abbastanza bene un'eventuale fase di pressing. Per quanto riguarda invece lo stile d'attacco abbiamo ancora una volta equilibrato ma ampiezza 7, quindi è probabilmente una delle ampiezze più larghe che vi faccio vedere in queste guide, questo perché comunque i due COC ho bisogno che siano sì in una posizione intermedia rispetto a quella che è un esterno puro ed un COC, ma comunque li voglio abbastanza larghi e a ridosso delle due punte, quindi ecco perché andiamo ad utilizzare 7 di ampiezza. Per quanto riguarda invece giocatori in aria 4, invece angoli e punizioni 1 dunque per non subire contropiedi né per quanto riguarda situazioni di calci d'angolo né per quanto riguarda situazioni di calci di punizione. Andiamo a vedere invece adesso quelle che sono le istruzioni che vado a dare appunto ai giocatori. Per quanto riguarda insomma la difesa abbiamo le istruzioni standard ovvero al portiere niente, ai difensori centrali le solite e per quanto riguarda i terzini resta dietro in attacco con una variante che può diventare partecipa all'attacco su quello che il vostro terzino diciamo con piedi migliori qualora magari volete andare a cercare di recuperare la partita. Per quanto riguarda il primo dei due mediani andiamo ad utilizzare resta dietro in attacco e copertura al centro quindi anche qui siamo più o meno nell'ottica delle cose standard che andiamo ad applicare ai giocatori mentre per quanto riguarda Mataus ecco qui che troviamo la novità infatti abbiamo Avanza e copertura al centro. Vado a spiegarvi rapidamente il perché di utilizzare Avanza. Essendo un mediano è vero sappiamo che però in questo modulo manca la figura di riferimento che è quella del COC ad esempio nel 4-2-3-1. Quindi io cosa voglio? Voglio che mi venga a dare una mano Mataus che il mediano tra i due con la migliore propensione offensiva quindi voi tra i due mediani andate a scegliere quello magari con i piedi buoni, il miglior tiro eccetera per mettere Avanza ma voglio che comunque sia a ridosso delle mie punte, voglio che sia a ridosso dei miei trequartisti in maniera tale da poter offrire un ulteriore spunto, uno scarico facile quando magari sto cercando quella che è l'imbucata giusta. Quindi ecco il motivo. E comunque Avanza non vuol dire che voi praticamente giocate con un 4-1-3-2 no, assolutamente no, perché Mataus si avanzerà in fase magari di possesso palla ma in fase di non possesso voi dovete essere subito pronti a richiamarlo indietro lui comunque grazie a quello che è il suo work rate alto-alto inizierà a ritornare già indietro per fatti suoi per difendere a meno che poi non ci perdete palla in una posizione di campo tipo vicino alla bandierina e allora state con un centrocampista in meno ma poi il gioco vi fa fare una diagonale da uno dei COC, quindi state coperti. Per quanto riguarda i due COC, a entrambi andiamo ad applicare entra in area per il cross, semplicemente senza andare a mettere Svaria, eccetera, eccetera, eccetera rimani in avanti, rientra in difesa, eccetera rimani in avanti, non lo andiamo a mettere perché non vogliamo perdere il supporto difensivo dei due esterni rientra in difesa, non lo andiamo a mettere perché non vogliamo che in fase di ripartenza ci ritroviamo entrambi i COC in difesa e Svaria anche, non lo andiamo ad inserire perché io voglio che i miei due COC si trovano in quella posizione non è che se ne vadano a pascolare per quella che è la metà campo avversaria. Un'ulteriore novità rispetto a quello che è il 4-4-2 è per quanto riguarda quelli che sono gli attaccanti centrali ai quali non vado a dare alcuna istruzione, un po' come accade per gli esterni nel 4-4-2 questo perché voglio essere libero di potermela giocare con i triangoli, per gli inserimenti, eccetera che meglio ritengo io, senza che mi vadano a scappare tutti e due al massimo, se queste spostazioni non vi piace, potete mettere a fase di ripartenza e inserisciti alle spalle all'altro in maniera tale che così avete uno che viene incontro e uno che va che anche può essere una buona soluzione queste ad esempio erano le istruzioni che davo io l'anno scorso al mio 4-4-2 Passiamo a quelli che sono, diciamo, le caratteristiche dei giocatori nei ruoli chiave lo sappiamo, lo sapete anche voi, ormai per la difesa sono sempre i soldi per quanto riguarda la mediana, dunque, in questo caso invece abbiamo bisogno di quello che è un mediano più difensivo, anche puramente difensivo e basta qui abbiamo Viera, che comunque fa bene anche l'altra fase ma passando a quelli che sono budget, mano a mano a scendere abbiamo per esempio un Kanté, un Sissoko, un Valverde, un Marcos Fiorente, eccetera per quanto riguarda invece la parte di destra, ad altro mediano abbiamo invece bisogno di un giocatore, sì, abile a difendere ma chiaramente che è in grado anche di offendere quindi che cosa avremo? Avremo bisogno qui di un Gullit, di un Mataus, Blanc, Zidane, Pogba, De Jong, eccetera, eccetera quindi carte che mano a mano iniziano a scendere di crediti ma comunque rappresentano quelle determinate caratteristiche per quanto riguarda i C.O.C. al solito abbiamo bisogno di giocatori agili, veloci, con un ottimo tiro meglio se con 5 skill, ancora meglio se hanno anche 5 piede debole e per quanto riguarda le due punte abbiamo bisogno di due attaccanti fisici, veloci, 5 skill, ancora meglio se hanno 5 piede debole questo ovviamente perché devono andare via in velocità devono essere in grado di poter dialogare rapidamente con i due C.O.C. ad inserirsi liberarsi anche magari creando qualcosa con le skill, eccetera, eccetera quindi per quanto riguarda il 422 ragazzi è tutto spero che questa guida vi torni utile fatemi sapere se voi utilizzate questo modulo me l'avevate chiesto intanto, spero che vi possa tornare utile nulla, vi ricordo di lasciare un like, un commento, tutte cose a youtuber che servono sempre vi ricordo, instant gaming, primo link in descrizione per tutti quelli che sono i vostri acquisti di microsoft points psn card, psn plus, abbonamenti a live, giochi, sconti, steam, boom, bam, bam, bam mi raccomando e nulla ragazzi, ci vediamo su Twitch, lo sapete, ogni giorno io vi saluto, ciao 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 ciao